Ciao! Bentornati sul canale! Oggi prepariamo insieme tre maschere viso a base di kiwi. Per prima cosa vado a sbucciare il kiwi, dopodiché lo taglio a quadrotti e io lo schiaccio con la forchetta. Voi se avete il frullatore frullatelo. Per chi avesse visto il mio video in cui creavamo insieme la maschera alla carota, il mio frullatore ha subito un incidente, quindi dovrò farlo necessariamente con la forchetta. Prepariamo insieme la prima maschera che sarà esfoliante e anti-età. Ci serviranno due cucchiaini di kiwi e due cucchiaini di olio di argan. Ho scelto i kiwi perché sono ricchi di antiossidanti e aiutano a contrastare i processi ossidativi delle cellule. L'ho uniti all'olio di argan perché è un potentissimo anti-età. Vado a massaggiare il composto sulla pelle, lo lascio agire per circa 5 minuti e poi sciacquo. E come vedete la pelle già visivamente risulta più elastica e più luminosa. Eccoci alla preparazione della seconda maschera che sarà idratante e illuminante. Ci serviranno due cucchiaini di kiwi, due cucchiaini di yogurt bianco e qualche goccia di succo di limone. Ho deciso di aggiungere lo yogurt perché è una sostanza che apporta benefici per tutti i tipi di pelle perché va a allenire la pelle sensibile, nutre quella secca e purifica quella grassa. E ci aggiungo anche qualche goccia di limone perché combatte i batteri che portano alla formazione dei brufoli ed è un naturale schiarente. Vado ad applicarla, la tengo in posa per 15-20 minuti dopodiché risciacquo. E come vedrete la pelle risulterà molto molto più luminosa. Eccoci alla preparazione della terza ed ultima maschera che sarà nutriente. Ci serviranno due cucchiaini di kiwi, un tuorlo d'uovo e un cucchiaino di olio di karité. Cerco di utilizzare il tuorlo d'uovo perché è particolarmente nutriente, molto adatto per l'idratazione della pelle secca e ci aggiungo l'olio di karité perché anche esso è nutriente e idratante e soprattutto è un ottimo antietà. Applico la maschera con un pennello, la lascio agire per 25-30 minuti, dopodiché sciacquo con acqua tiepida e purtroppo voi non lo potete sentire ma la pelle risulterà molto più liscia e morbida al tatto. Ok, siamo arrivati alla fine del video, io spero che vi sia stato utile e che soprattutto vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un bel like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo qui al prossimo video. Ciao! Ciao!